Tra qualche giorno verrà riposizionato il gazebo dinanzi all'ospedale della Fesica Confsal, distrutto nei giorni scorsi. Un gazebo che era stato montato dopo regolare ITER per raccogliere firme. Un presidio permanente a sostegno della battaglia per l'internalizzazione dei servizi dell'ASL 1 a Vezzano sul Monal Aquila per salvare centinaia di operatori che rischiano il perdere il posto di lavoro a caso dello sblocco del concorso per assistenti amministrativi. Già tanti medici importanti avevano firmato sia il delegato per gli amministrativi Fabio Giurina che il segretario provinciale Marcello Vivarelli non vogliono pensare a un atto specifico contro di loro ma se così fosse sarebbe gravissimo. La battaglia che il sindacato sta conducendo è un solo appoggio ufficiale anche se tanti medici hanno firmato come si diceva quello della NAO Assomed di Alessandro Grimaldi il più grande sindacato dei medici dirigenti. Una certa insofferenza però ha rilevato il sindacato cioè nei confronti di chi precario ad oggi sta cercando di salvare l'occupazione senza intromettersi con i concorsi pubblici ma cercando di affidare ad una società in house della ASL qualcosa che si è fatto in tanti occasioni sia in Abruzzo che in altre regioni. Per il sindacato basterebbe la volontà politica ma per loro non ce n'è abbastanza e intanto da parte loro la battaglia continua non è l'episodio del gazebo a intimorire. La raccolta firme si è spostata vicino all'ufficio informazioni. A breve però il gazebo sarà montato di nuovo.